Asciugare il tuo bucato in maniera naturale è meglio per la tua biancheria, per l'ambiente e inoltre ti fa risparmiare. Lo stand di ombrello Lift o Matic Advance è facile da utilizzare grazie al sistema Easy Lift, perfettamente regolabili alla tua altezza di lavoro ideale ed ha fili sempre ben tesi, ideale per arieggiare cuscini e biancheria da letto nella posizione più bassa. I bracci ruotano facilmente anche quando sono completamente carichi di panni bagnati, pertanto non è necessario portarsi in giro la cesta della biancheria. È dotato di fili per stendere di alta qualità e resistenti ai raggi UV, con profilo antiscivolo e facili da sostituire. E il Lift o Matic Advance è resistente alle agenti atmosferici e molto stabile. I fili per stendere sono facili da sostituire. Tutti i bracci sono dotati di anelli speciali per gli appendi abiti, ideale per asciugare anche la biancheria più delicata. C'è spazio sufficiente per il bucato di un'intera famiglia. Nella maggior parte dei modelli il Lift o Matic Advance include il tubo di fissaggio in metallo zincato da terra o il tubo da cemento, in modo da non avere ostacoli in giardino o sul terrazzo. Entrambe le soluzioni sono anche disponibili separatamente. Sono incluse una custodia resistente agli agenti atmosferici ed un porta mollette anch'esso impermeabile. Un'ampia gamma di altri utili accessori è disponibile separatamente.